Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo nuovo tutorial ti spiego come aggiornare la propria scheda video in video se non sai che tipo di scheda video hai nel pc tu basta che scrivi direttamente dxdiag su windows e qui troverai la tua scheda video, se hai una scheda video in video oppure md ovviamente se vai su schermo questa è la mia scheda video geforce gtx 1660 super per aggiornare questa scheda ovviamente se andiamo un attimo nel programma geforce experience che è un ottimo programma che lo uso da ormai tre anni quindi bisogna scaricare questo programma lo scarichi, scarichi così il programma e da qui in poi potrai aggiornare sempre la tua scheda video io ovviamente se vado su geforce experience, questo qua, vado su driver mi dice data di rilascio il 14 di novembre l'ultimo aggiornamento che ho fatto su geforce è del 14 di novembre se vado a fare cerca aggiornamenti mi raccomando non rimanete indietro con gli aggiornamenti di nvidia e già è tanto che la mia 1660 super fa ancora aggiornamenti oggi quindi una volta scaricato il programma non ti resta che cliccarci sopra eseguirlo come amministratore, fai sì e aspettare che scarichi un contenuto, un pacchetto e poi lo installa automaticamente eccolo qua accettiamo il contratto e installiamo il programma ed eccolo qua quindi il metodo era questo su come aggiornare la scheda video nvidia molto semplice, niente di complicato, scarichi un programma e aggiorni così la tua scheda video quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao